Oggi 10 aprile i lavoratori della scuola di quota 96 sono dati in presidio davanti a Montecitorio per ribadire il loro diritto di essere collocati in pensione dal 1 settembre 2014. Al presidio sono intervenuti i parlamentari che appoggiano la nostra lotta. Nel 14 aprile il governo dovrà rispondere in quale modo ha intenzione di reperire i fondi per risolvere la nostra situazione.